E' benvenuti qua in questo nuovo fantastico video E oggi sono qua sopra un gioco abbastanza strano Che avete già visto da un altro youtuber Che conoscete ed è meglio di me Volevo portare questo gioco per un motivo O forse per due Forse anche per tre Il primo motivo è che volevo provare questo nuovo stile di montaggio Fare quello che non ho mai fatto prima Seconda cosa è perché non trovo mai nessuno con cui giocare assieme a giochi multiplayer Perché sono tutti impegnati sul League of Legends Lezzo E' terza cosa perché volevo sclerare un po' su Spelanchi Quindi benvenuti su Spelanchi Questo gioco so già che l'avete visto da Isaac Lo so, lo so, lo so Però, però, però Volevo provare anche io a sto gioco Sclerare un pochettino così Per vedere che cosa può succedere Però ho paura Ho paura Che potrebbe risultare qualcosa di Non lo so, un po' scleroso Ma adesso vediamo Lo scopriamo adesso Lo scopriamo adesso Let's go E si inizia Cori il vero Fuck you Ho paura Di questo vaso Ok, da oggi in poi Avrò paura dei vasco Ok Sento un'alp Ah, guarda che culo Guarda che culo Vai, tutto tuo Però io devo andare Sono un cretino Cretino Io devo andare da questa Yeeeh Aha Vabbè, let's go Allora Vediamo di andare da questa parte Oh, oh mio dio Ce n'è uno abbastanza incazzato Guanti a rapicata Bucchio di corde Scatola Posso? Yeeeh Sì, che figata Posso rapicare Tanto non mi servirà un cazzo Perché morirò Tanto presto Prima di andare Dalla ragazzina Che c'è laggiù Io voglio andare da questa parte Eh, era qua Ok Oh, oh Oh Tataratà Tataratà It was at this moment That he knew He fucked up Oh Yeeeh Ok Fuori dalle palle Aiuto Ma Ti ho colpito Stronzo Allora Vediamo di andare da questa parte Tipo Andiamo a recuperare quella ragazzina Che sta urlando Scusami Ok Ok Buona fortuna ragazzina È stato un piacere conoscerti Weeeh Perché ho cliccato triangolo Uh, occhiali Posso vedere cose che non ho mai visto Ho questo Aia Tanto muoio adesso Adesso muoio Adesso muoio Muoio Cosa vi ho detto? Vedi che? Cosa è? Ok Abbiamo capito più o meno come fare Allora Vediamo un po' Qua dentro Uh, corde Uuuuh 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 Perché sono così stupido? Sono stupido Sono stupido Ok La corda Cosa è là E io faccio così Vieni qua ragazzina Ti salvo io È alpe Cioè del tipo La prende La picchia Invece che devi venire con me E la E dice poi Vabbè ti salvo io Tranquilla ragazza Yes Ciao C'era il mio gatto Che mi faceva miau Bastardo Come osi Perchiamo una chiave Da queste parti Te non ti ho visto Da dove? Da dove? Da dove? Sì Oh Aspetti Alp Fammi vedere Dov'è l'uscita Ok Vediamo dov'è l'uscita L'uscita Trovata La mia unica idea è questa Prendere E mettere la bomba Devo almeno arrivare Almeno arrivare Alla zona Lì Delle Della foresta Se riesco ad arrivare lì Almeno sono contento Poi per il resto Posso farmi i cazzi miei Ok Allora E beh Almeno ho trovato La zona qui Però Però Voglio trovare La ragazzina Eh Trovata Ciao Vieni qua che ti salvo io No Ok Yap Yap E Yap Etala Uh Sì Ah Uh Questo sì Uh So dove l'è l'uscita Ok Non se la faccio Devo arrivare almeno dall'altra parte Fammi arrivare Alle grotte Vabbè arrivare Appena bel potecino Ho solo una vita Ho solo una vita Posso farcela Scusa Scusa Ok Sto consumando corde Per nulla Lo sapete Ma tipo Per nulla Ma proprio Per nulla Vediamo se La signorina È là Da salvare Anzi Da questa Che culo Visto Allora Ti porto qua Vieni con me E let's go Yeee Ora Prima di andare Me ne voglio prendere tutto l'oro Sì Oro Oro Ok Che culo Che culo Che non li ho distrutte normalmente Ah Sono un genio Allora Scatola di misteri 8000 Raggio congelante Beh Bussolo mi serve Macchina fotografica Cosa serve Cosa fa Non ho ancora capito Se ho consumato soldi Per nulla Cioè Non mi serve Non la macchina fotografica Che cacchio Cosa mi serve Ragazzi Cosa serve La macchina Adesso L'ho lasciata lì La gente mi sfrutterà Perché Hai lasciato la macchina fotografica È l'arma più potente In tutto il gioco Io è tipo Ah Ok Allora Mi faccio colpire Dallo stesso idiota Perché Sono un idiota Forca Mi vado a suicidare Dove 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 Cosa Dove Potessi suicidare Ecco Ne va Faccio Faccio Running in the night Adesso Vediamo In quanto Ce la Faccio Vai Questo gioco Ma Astuzia 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 Muore Allora Vediamo Vediamo di andare Da questa parte Poi da Questa parte Poi da Questa parte Questa parte E poi fanculo Alla ragazza Lo guardai Edissi Vaffanculo Ragazza Non ti porterò mai Dopo con me Anche se mi davi Una vita in più Ok Aiuto Continua Eccolo Cosa ho scritto Futuro Sì Della stazione Della scorso Incontriamo Sera fine Delle mine Se vuoi Essere aiuto Va Torna su Torna su Torna su Torna su Ok ragazzi Questo gioco Mi sta facendo Un pochettino Sclerare Però Vedrò di allenarmi Magari un giorno Di portare altri video Su sto gioco Forse Se vi piace Questo nuovo stile di video Se vi piace Se vi piace Se vi piace Se non vi piace Invece Fanculo E E chiudo il canale Perché Questo qua È il nuovo stile di video Sì lo so Imita un pochettino Qualcun altro Però Devo farlo Vabbè Quindi Dai di tutto Ci vediamo Al prossimo Se il video È vincito E vi è riuscito Una bella Zapposizione Mi piace Noi Ci vediamo Alla prossima Aio E vi è riuscito